L, Isola dei Famosi, non è nuova a momenti di tensione. Ma quello che è successo nell'ultima puntata ha lasciato tutti a bocca aperta. Joe Bastianich, il noto ristoratore e personaggio televisivo, si è trovato al centro di un vero e proprio ciclone mediatico. Isola dei Famosi, Joe Bastianich al centro del ciclone. Durante il reality show di Mediaset, condotto da Vladimir Luxuria con l'accompagnamento degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. E la partecipazione dell'inviata Elenoir Casalegno, un concorrente ha lanciato accuse pesanti contro Bastianich. Il clima si è rapidamente surriscaldato, dando vita a una serie di dichiarazioni che hanno fatto il giro del web, scatenando discussioni e dibattiti. È bufera su Joe Bastianich. Le parole sono chiare, e non lasciano spazio a dubbi sulla gravità del confronto. Bastianich, che fino a quel momento era una delle figure di spicco del programma, si è ritrovato sotto i riflettori in una luce non certo positiva. La situazione diventa incandescente. La situazione è diventata tesa quando, in occasione delle nomination, uno dei partecipanti al reality, Daniele Radini Tedeschi, ha colpito duramente il celebre imprenditore. L'ha fatta fuori dal vaso, ha detto Tedeschi, riferendosi a Bastianich. Queste parole pungenti sono state il punto di partenza di un'aspra discussione che ha scosso l'intero programma. Le critiche non si sono fermate qui. Tedeschi ha continuato, mettendo in discussione il contributo di Bastianich all'interno del reality. Non parla. Non si interessa della vita di nessuno. Non fa domande e non socializza. Joe Bastianich. Un'iguana nell'isola. L'episodio delle nomination è stato un momento decisivo. Tedeschi ha proseguito con una metafora tagliente. Bastianich sarebbe come un'iguana. Un animale che non comunica e tende a fuggire. E quindi, totalmente inutile, per il contesto del gioco. Un paragone che sicuramente non sarà passato inosservato né all'interno né all'esterno del programma. Il paragone con l'iguana non è un caso isolato. Rappresenta il culmine di una serie di tensioni crescenti tra i due concorrenti. Che hanno avuto più di uno scontro nelle scorse settimane. La domanda che tutti si pongono è. Le acque si calmeranno tra Daniele e Joe? Anticipazioni della prossima puntata. Per scoprire come si evolverà questa intricata vicenda tra Daniele Radini tedeschi e Joe Bastianich. Il pubblico dovrà attendere con ansia la prossima diretta. Il nuovo appuntamento è fissato per il 22 aprile 2024. Sarà interessante vedere se i due riusciranno a trovare un terreno comune o se le ostilità continueranno a dominare l'atmosfera del, Isola dei Famosi.